Signor Fumagalli, lei è stato trovato in possesso di ben tre etti di marijuana. Mi bastavano almeno mezza giornata. Cos'ha da dire in sua discolpa? Che nel ripostiglio c'era pure un chilo di bamba. Non fatemi fare figure di merda. Lei rischia la galera. No, la prego. Se ha dei figli le posso regalare questo bellissimo frisbee. Certo, è un po' pesantino, ma è molto aerodinamico. Sta cercando di corrompermi con un piatto? Un piatto e un accendino. Le giuro che prima andava. Sa che in questo paese le droghe sono illegali? E allora sua moglie? Guardi che cazzo di faccia che c'ha quella o si droga o ha avuto un incidente. Quella è mia figlia! Ma se sembra mio nonno, da morto. Arrestate. Con chi cazzo hai ficcato? Con un T-Rex?